35 anni fa l'italia si collegò per la prima volta internet grazie ad un gruppo di pionieri era il 30 aprile del 1986 il segnale partì dal centro universitario per il calcolo elettronico del cnr di pisa e arrivò alla stazione di roaring creek in pennsylvania la notizia fu oscurata dal disastro di cernobyl avvenuto pochi giorni prima ma fu davvero l'inizio di una storia nuova e molto prima che internet diventasse dominio di tutti agli inizi degli anni 90 dietro quel risultato ci furono un lungo lavoro di preparazione iniziato negli anni 70 in concomitanza con lo sviluppo di arpanet la rete della difesa militare americana la stretta collaborazione con alcuni padri di internet e la lungimiranza degli stessi ricercatori italiani avevano intuito infatti che grandi macchine di calcolo avrebbero avuto un'influenza straordinaria nella trasmissione di informazioni e contenuti